Benvenuti in questo nuovo video, questo video dove vi faccio vedere il mio diario di Frozen della scuola Mi piace veramente tanto questi dettagli Vedete, è di Frozen, veramente mi piace da morire Queste pagine qua Mi piace veramente veramente tanto Vedete, da morire, qua c'è Elsa E poi ho fatto un altro acquisto Questo è un quaderno È una creazione, questo è un diario di oro Vabbè, ciao ragazzi